Aveva occultato al fisco 1,4 milioni di euro. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara hanno individuato un noto imprenditore pescaresi operante nel settore della somministrazione di pasti e alimenti, che attraverso artifici contabili illeciti e nello specifico dichiarando di aver versato in annualità molto remote, cioè primi anni 2000, imposte in eccedenza rispetto a quelle dovute, è riuscito a frodare il fisco. Il GIP del Tribunale di Pescara quindi ha disposto l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo anche per l'equivalente nei confronti dell'imprenditore per l'intero ammontare dell'illecito guadagno. Le operazioni anti-evasione fiscale da parte della Guardia di Finanza di Pescara hanno consentito nel corso del solo 2019 di denunciare all'autorità giudiziaria 137 soggetti per reati penal tributari, con proposte di sequestro pari a circa 15 milioni di euro, a fronte dei quali sono stati già emessi provvedimenti di sequestro finalizzati alla confisca per oltre 4 milioni, fra beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie già sottoposti a sequestro.